Lampo di vigilia con Mr. Massimiliano Allegri e Voice Cesni. Come sempre vi chiedo di presentare voi e la vostra testata e di fare una domanda alla volta. Iniziamo con le domande per Cesni e iniziamo dal canale GTV. Ciao Tecmo, buon pomeriggio, Enrico Zambrano di Juventus TV. La preda di domani è cruciale per questa fase a gironi della Juve. Ti chiedo quale atteggiamento deve avere la squadra per affrontare il Maccabi e che squadra è il Maccabi in generale. Grazie. Buongiorno, l'atteggiamento è molto simile a quello che abbiamo avuto prima della partita contro il Bologna. Siamo stati tranquilli, consapevoli della situazione e della difficoltà della situazione in Champions. Abbiamo questo doppio confronto con il Maccabi, bisogna portare a casa dei sei punti per poter arrivare allo scontro diretto contro il Benfica con la possibilità di passare il turno. Ciao, buonasera, Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Volevo chiedere, visto questo inizio di stagione e anche Perin che ha ben figurato in questo inizio di campionato, la senti un po' la concorrenza? Grazie. Sento l'amicizia, io voglio bene a Mattia perché dopo aver passato un periodo difficile sotto l'aspetto fisico è tornato qua ed è un grande portiere, quindi io non sono assolutamente sorpreso dal livello delle sue prestazioni quest'anno. Quando c'è bisogno è sempre pronta a darci la mano ed è un grande portiere. Ciao Tech, Giovani Albanese, Sport Italia. L'anno scorso le difficoltà di inizio stagione le hai vissute da protagonista, quest'anno da fuori. Ti chiedo se hai percepito dall'esterno delle affinità o comunque ci sono delle grandi differenze? Ed eventualmente come e cosa serve per venirmi fuori? Grazie. Ci sono sicuramente tanti aspetti che hanno condizionato l'inizio della stagione, le mancanze dei giocatori importanti non hanno aiutato, ma detto questo bisognava fare molto meglio. Ora che sono tornati un paio di giocatori, un'altra che piano piano stanno rientrando e ci daranno una grande mano, sarà un po' più facile e alza anche il livello di autostima nella squadra. Però, come ho detto, anche nei condizioni difficili bisognava fare meglio. Ora ci aspettano un mese e mezzo molto molto importanti e bisogna portare tanti risultati a casa. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Io volevo chiederti se pensi che questa squadra sia, tu che la vivi dall'interno, sia pronta per una grande rimonta, sia in Champions dove la situazione è più difficile, sia in campionato dove magari c'è più tempo per recuperare. Sì, credo che questo gruppo ha tutte le qualità, tutta l'esperienza per poter affrontare questa sfida con grande entusiasmo. Siamo pronti a fare comunque, nonostante l'inizio è molto difficile, una buonissima stagione. Ciao Tech, Cristiano Corbio, il bianconero. Tu sei stato uno dei primi calciatori a parlare di allenamento mentale per una squadra. Secondo te è qualcosa che in futuro lo possiamo vedere e se ne ha bisogno anche in questo momento la Juventus? Grazie. Credo che ognuno deve fare le proprie scelte, se ha bisogno di aiuto dall'esterno o no. Per ora un allenamento mentale del gruppo non ce n'è, fa il mister il nostro psicologo. Ci carica tanto, però io credo che comunque nel futuro sarà una cosa molto importante. Ciao Alessandra D'Angio, RaiSport. Abbiamo intravisto nell'allenamento di questa mattina anche grandi sorrisi, grande esernità, un gruppo affiatato e tranquillo, pronto a fare le cose semplici come dice il mister. C'è anche tra di voi la sensazione, parlando tra di voi nello spogliatoio, guardandovi che forse sia scattata quella molla che nel primo mese non c'è stata? Guarda, io credo che anche nei situazioni difficili bisogna cercare di riportare l'entusiasmo all'ambiente. Facciamo comunque un mestiere bellissimo e quando le cose non vanno bene sì che bisogna lavorare molto duro, ma bisogna lavorare sempre con il sorriso. Ovviamente la vittoria contro il Bologna un po' di entusiasmo ci ha riportato e i risultati positivi che spero di poter conquistare nelle prossime partite, ci riportando l'entusiasmo anche allo stadio e tutto l'ambiente Juve. Ciao, Giorno Codini alla Stampa. Invece volevo chiederti, dicono che quando uno sta fuori vede le cose meglio quando non è in campo. Ecco, volevo chiederti in questo mese come hai visto la Juve e secondo te qual è stato veramente il punto debole per cui c'è stata questa crisi di risultati e di prestazioni? Grazie. Non so se si vede meglio quando si sta fuori. Io preferisco comunque ad essere dentro il campo, però come ho detto prima c'erano tanti aspetti che ci hanno condizionato. Però come ho detto bisognava fare comunque molto meglio. Io ho passato questo mese non benissimo perché per un mese mi sentivo inutile, ho visto la squadra in difficoltà e io non potevo aiutarla. Quindi non è stato semplice, però ora sono tornato con grande entusiasmo. Stefano Lanzo, Tutto Sport, ti volevo chiedere quanto è importante per voi fare quello che non è successo finora in Champions, cioè blindare la porta? Perché in campionato abbiamo visto che comunque la squadra quando non prende gol veramente fa la differenza. Quanto è importante anche in Champions evitare di prendere gol in questo doppio confronto? È fondamentale. Poi resta sempre un obiettivo mio singolo, però quando riusciamo ad essere compatti e ordinati dietro diventa anche molto più facile attaccare e creare situazioni in contropiede. Quindi è sicuramente un aspetto fondamentale. Buongiorno, salve. Marco Venditti, tvplaycalciomercato.it Quali nel campionato italiano secondo te le squadre che la Juventus deve temere di più? C'è il Napoli, Milan, Inter che comunque ha grossi problemi. Ecco, chiaramente il campionato è lungo, in visione futura. Quest'anno troviamo un campionato molto equilibrato. Ci sono cinque o sei squadre lì che possono lottare per lo scudetto, quindi ci saranno più scontri diretti. Però oggi pensiamo alla parte di Champions. Non ha tanto senso pensare a quello che è il campionato, perché ora siamo sette punti dietro e c'è una rincorsa da fare. Però questo è un passetto alla volta, ci arriveremo. Grazie. Alberto Zanello, La Press, conosci bene il tuo compagno di nazionale Arek Milik. Ti chiedo se ti aspettavi che avesse un impatto simile sul mondo Juve. Grazie. Io Arek lo conosco da tanti anni e so che è stato sempre un attaccante forte che comunque fa gol. Quello che mi ha sorpreso è la qualità che mette in campo. Giocando un pochettino dietro Vlaovic ha un po' più spazio, si gira verso la porta e crea tante situazioni offensive. Quindi sono molto contento di quello che ha fatto. Si vede che ha un buon futuro nella Juventus. Speriamo. Ci sono altre domande per Cesni. L'ultima. Nerozzi. Ciao Massimo Nerozzi, Torino, Corriere della Sera. Ti voglio chiedere quante chance dai alla Juve di qualificarsi agli ottavi di Champions e in che cosa sei migliorato da quando sei alla Juve. Visto che c'è Filippi qua che è dagli undici anni che lavora e che ha una buona intesa con te. Ti ringrazio. Sì, Filippi mi spinge tanto ogni giorno e i difetti li trova comunque lui. Intanto bisogna fare tre punti domani. Poi tre punti a Tel Aviv e poi andare a Benfica per giocare il passaggio del turno. Parlare della percentuale non ha tanto senso. È importante andare in campo e portare a casa le vittorie. Bene, grazie Tec. Iniziamo con le domande per il ministro Massimiliano Allegri e iniziamo da JTV. Buongiorno, ministro Enrico Zambroni, Juventus TV. Che Juve vedremo domani sera? Cambierà pelle rispetto alla gara contro il Bologna a livello di uomini? Grazie. Sicuramente ci sarà qualche cambiamento perché comunque dei tre rientranti dovrò valutare chi far giocare. Perché comunque poi in questo momento abbiamo partite ravvicinate. Visto che mi sono rientrati quasi tutti i giocatori, ho la possibilità un pochino di ruotarli anche all'interno della partita. E questo è molto importante. Buongiorno, mister Giovane Albanese Sport Italia. Le chiedo se ha le idee chiare sulla linea difensiva. Nel senso, vedremo la difesa a tre come nelle precedenti partite di Champions o no? Grazie. Devo ancora decidere la formazione perché qualcuno rimarrà fuori. Dei difensori a metà campo dovrò valutare. Quindi domani vedremo. Però non è tanto la difesa a tre e la difesa a quattro. L'importante è che la squadra prosegua e migliorando. La prestazione che è stata fatta sabato sotto l'aspetto difensivo, sotto l'aspetto offensivo, nella gestione dei momenti della partita perché c'è stato un momento sabato, domenica, scusate, abbiamo avuto 5 minuti, 10 minuti alla fine del primo tempo dove la partita l'abbiamo spaccata perché abbiamo perso un po' di palloni e eravamo un pochino un po' troppo lunghi. E su quello bisogna migliorare. Quindi domani bisogna dare seguito alla prestazione di domenica. Buonasera Ministro Marco Mediti, tvplaycalciomercato.it Se questa è la squadra in Champions League ottimale per risalire la china. Grazie. Domani sera vedremo. Domani sera, visto che abbiamo zero punti dopo due partite, bisogna vincere. Però questo non vuol dire andare in campo, avere fretta, avere ansia perché le partite sono lunghe. L'importante è non strafare come non lo abbiamo fatto nella partita di Bologna. Quando si rincorre non è che in una partita risolviamo i problemi e risolviamo le rincorse. Quindi per raggiungere la qualificazione in Champions bisogna partire da una vittoria e speriamo che sia quella di domani sera. Buongiorno mister Filippo Consiglio del Corriere Sport. Visto che Scesni ha detto poco fa che fa lo psicologo e carica la squadra, vado a chiedere su quali testi sta battendo per caricare la squadra, come sta caricando i giocatori. Nel momento di difficoltà la cosa più semplice da fare, e bisogna farla, i ragazzi sono stati molto bravi nella partita di domenica e non era semplice, quella di giocare una partita normale, normale nel senso che tutti sono messi al servizio alla squadra, a nessuno le è stato chiesto di vincere la partita da solo e quindi fare una partita più di squadra, con compattezza e dopo le partite si evolvono, nel momento in cui c'è da spingere un po' di più bisogna spingere di più, nel momento in cui bisogna rallentare bisogna rallentare e quindi questo è stato fatto. Su questo bisogna assolutamente continuare, ma in questi momenti la fretta e l'ansia ti portano sicuramente a sbagliare. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport, io volevo sapere le condizioni di Milik che oggi non abbiamo visto allenarsi. Milik ha un leggero affaticamento, domani non sarà a disposizione, verrà in panchina, sperando di non doverlo usare. Grazie mille. Lei potrà condizionare e influenzare la prestazione del Maccabi Haifa e anche condizionare i suoi piani per la partita di domani? Assolutamente no, il Maccabi è una rosa importante. Domani è una partita non semplice perché il Maccabi ha giocato molto bene a Lisbona contro il Benfica, facendo una partita, soprattutto al primo tempo, molto buona. In casa col Paris fino al settantesimo, settantaduesimo, stavano uno a uno. È una squadra ben organizzata che corre, presta tutto campo e non sarà assolutamente una partita facile. Noi domani per superare il Maccabi bisogna fare una prestazione di ottimo livello, di squadra, sapendo che poi durante la partita avremo delle situazioni favorevoli, ma non sarà semplice come tutti si aspettano. Bisogna avere grande rispetto del Maccabi. Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Volevo chiedere, McKennie lo vedremo ancora in posizione un pochino più defiliata sulla destra oppure nel futuro, già da domani, lo vedremo magari in posizione più centrale? Grazie. L'altro giorno è stato più a destra, però poi partiva da destra, si infilava a mezzo, si scambiavano lui e Danilo nella posizione di ampiezza sulla fascia destra. Domani vedremo, a parte domani non so se lo farò giocare, dipende un po' dalle scelte che farò a metà campo. Buongiorno, mister Alberto Maru, il messaggero di Ventus News 24. Nella sua carriera lei si è sempre qualificato per gli ottavi. Le chiedo se è mai partito così male in Champions, se è ottimista e sulla base di quali elementi eventualmente è ottimista. Grazie. Vero, si è sempre qualificato. Le mie scuole non sono mai partite così male in Champions, però c'è stato il primo anno di Champions alla di Ventus dove in casa con l'Olimpia Costa abbiamo rischiato di essere eliminato perché stavamo perdendo 2-1. Fino a che la matematica non ci condanna, noi bisogna lavorare per poter passare il turno. Quindi domani bisogna mettere un mattoncino e poi dopo vedremo più avanti. Sì, mister Cristiano Corbe, il bianconero. Come ha ritrovato Di Maria dopo la sosta? Se ha parlato con lui, se è pronto insomma per giocare queste partite così importanti e determinanti? Grazie. Angre sta molto meglio, ma anche fisicamente perché ha avuto la possibilità un pochino di allenarsi di più rispetto a quello che sono stati i giorni precedenti o diciamo i giorni post Sassuolo perché poi dopo post Sassuolo ha saltato un po' di allenamenti, poi l'ho fatto entrare con lo Spezia, ha giocato un tempo a Firenze, però non era in condizione e quindi se allenava poco e di conseguenza ha perso la condizione che aveva avuto durante la preparazione. Ora sta bene, ma la gamba sta molto meglio e credo che domani farà un'ottima partita. Salve, mister, gioco di una stampa proprio su Di Maria. Volevo chiederle a maggior ragione se Milik parte dalla panchina. Due punte quindi con Vlaovic e Di Maria. È una soluzione ottimale? Considerando che magari Di Maria come seconda punta forse non è propriamente il suo ruolo. Grazie. Ma non è questione di chi faccia la seconda punta. Se giocherà Di Maria magari giocheremo con un modo diverso. Soprattutto metterò in campo dei giocatori con caratteristiche diverse. Comunque già sabato, domenica sera abbiamo fatto una partita dove abbiamo tirato molto più in porta indipendentemente da che si giocasse con Milik e con Vlaovic. Buonasera Alessandra D'Angiora e Sporta. Non riguarda questa partita però proprio in queste ore abbiamo visto la felicità di Chiesa tornato in gruppo e quindi ci sarà anche la felicità di Allegri che l'ha ritrovato. E a questo punto se tutto dovesse andare come deve andare, quando lo rivediamo anche noi? L'importante è che vada tutto come deve andare. Sono molto contento per Federico che comunque quando rientra con la squadra dopo nove mesi tira un sospiro di sollievo perché allenarsi sempre da sola e dura. Quindi è molto faticoso. Speriamo di averlo nel più breve tempo possibile. Ora lo valuteremo giorno dopo giorno per far sì di arrivare a un giorno dove gli organizzeremo una partita amichevole dove lì sarà il test definitivo per poter poi rientrare definitivamente a disposizione con la squadra. Buonasera Mister, Fabio Riva del Tutto Sport. Faccio ancora una domanda allo psicologo che citava prima, Scesni. Le chiedo come sta la testa della squadra che era tornata in campo l'altra domenica e diceva che non ci credevamo di quello che avevamo fatto. E se Parede e Sedimaria dall'inizio possono in questo senso aiutare con la loro personalità, con la loro esperienza a gestire una partita di questo tipo? Grazie. Sono due giocatori di grande esperienza e aiuteranno sicuramente. Per quanto riguarda l'altra sera, ho detto anche dopo la partita, ho fatto la battuta che non eravamo più abituati a vincere la partita, però giocare una partita come ha giocato la squadra l'altra sera, in totale serenità, senza aver fretta, senza aver l'ansia di andare a cercare il risultato, ha fatto sì che la partita si svolgesse in quel modo lì. Invece magari nelle partite precedenti abbiamo cercato magari con troppa fretta, troppa ansia e voler risolvere tutto e subito, ma siccome le partite durano 100 minuti e per 100 minuti bisogna stare sul campo, c'è un momento in cui le partite vanno fatte scivolare stando sempre dentro la partita e magari un errore che abbiamo commesso nelle partite precedenti è quello di uscire ogni tanto dalla partita. Mister, buongiorno, Marco Conterio, Tutto Mercato Web. Prima anche Scesni diceva che la partita decisiva sarà quella dopo questi due col Maccabio, ovviamente con il Benfica. La sensazione è che sia il Benfica l'avversaria, cioè tra Benfica e Paris Saint-Germain, il Paris lo date per qualificato, per passato, e la partita decisiva sarà quella di Lisbona? Ma il Carci non si sa mai, se il Paris perde tutti e due col Benfica non si sa mai. Noi bisogna lavorare su noi stessi, quindi è inutile pensare alla partita con il Benfica, se non battiamo il Maccabio in andata e ritorno non serve a niente. Quindi noi innanzitutto pensiamo a domani, che poi abbiamo il campionato, poi abbiamo il Maccabio e poi abbiamo il campionato. Quindi una cosa alla volta, bisogna passare dal campionato alla Champions, una cosa è uguale per tutte e due, bisogna cercare di fare risultato. Domani sicuramente è la partita più importante della Champions, perché comunque dopo due partite abbiamo zero punti. Alberto Zanello, La Press, considerando che punte in Champions League non potete più permettervi di sbagliare, le chiedo se quella di domani è la gara più importante della stagione, finora almeno. Grazie. Domani è una gara importante, non ci sta se è la più importante, perché magari la più importante potrà essere fra un mese, fra sei mesi, perché le vogliono. Domani è la più importante del momento, perché domani è una partita da vincere, la parte più importante è quella sempre, quella più vicina, ecco. Quindi domani è la più importante perché si gioca domani. E poi per quanto riguarda invece volevo fare un... Ieri ho dato al DIA al calcio Gonzalo Iwain, e quindi volevo fare un grande saluto, un grande abbraccio perché sono stati anni meravigliosi che ho passato con lui, e dispiace quando smettono sempre questi grandi giocatori, perché vedere giocare Gonzalo era un piacere, e quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo, per la seconda vita, perché di solito il calciatore si dice che nasce due volte, e quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo, e direi grazie per quello che... credo che anche per gli amanti dei gesti tecnici dei singoli giocatori, credo che abbia deliziato per tanti anni i campi di calcio. Grazie a tutti, abbiamo finito, a domani. Grazie a voi, buona giornata.